Gentile cliente, per offrirti un servizio più sicuro, da settembre 2019 entra in vigore la nuova normativa sui pagamenti digitali. Ecco le nuove modalità di autenticazione per accedere alla tua banca online e per autorizzare le operazioni dispositive. Accedi inserendo codice utente e password. Per completare l'accesso inserisci il codice generato dal tuo token. Per confermare un'operazione dispositiva di pagamento seleziona il numero di cellulare su cui ricevere il messaggio e clicca su Invia SMS. Inserisci il codice ricevuto e completa l'operazione aggiungendo il codice generato dal token. La modalità di firma delle deleghe F24 resta invariata. Buona navigazione!